Mercoledì 21 giugno 2023 è avvenuto l'imbottigliamento dell'etichetta Donna Ste, vermentino di Gallura, unica di OCG della Sardegna. Quest'anno in due nuove versioni. La prima replica della vendemmia 2021, ma con una gradazione alcolica leggermente più bassa. La seconda tutta nuova, è non filtrata, per esaltare ulteriormente la caratteristica naturale dei nostri prodotti e favorire un'evoluzione più pura e complessa anche dopo l'imbottigliamento. Per l'occasione abbiamo incontrato Andrea Pala, che ci ha illustrato le fasi del processo. Ciao, sono Andrea Pala e sono l'enologo di Coluccia. Il primo che andiamo a imbottigliare oggi è il Donna Ste. Il vino viene inserito in bottiglia. Poi viene inserito il tappo, un tappo di sughero del territorio. Viene inserita la capsula in stagno. Qua viene la fase della vestitura. La vestitura dove viene inserita l'etichetta front e retro. E viene inserita anche la fascetta di OCG. E qua andiamo nella fase di incastonamento. Grazie. 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 Grazie.